Qual è la verità dietro ai titoli accattivanti che leggiamo ogni giorno? Fedez, noto rapper italiano, si trova ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta per motivi molto diversi da quelli che potreste immaginare. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like se siete curiosi di scoprire di più. Il gossip impazza e i fan sono in subbuglio. Fedez e Ludovica Di Gresi sono stati avvistati insieme a un evento pubblico, scatenando rumor e speculazioni su un possibile nuovo flirt. Ma è davvero tutto come sembra. Nelle scorse ore, il rapper è stato ospite a Ella Zanzara, il programma radiofonico noto per non lasciare nulla al caso. Durante l'intervista, i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo non hanno perso tempo e hanno subito incalzato Fedez su diversi fronti. Prima tra tutte, la questione legale con il Kodakons. Sembra che tu stia combattendo una battaglia legale piuttosto intensa, Fedez. Puoi dirci come sta andando? Pensi di avere la meglio? Fedez, con la sua tipica calma, risponde, io sono cintura nera di querele, come sapete. Il processo è ancora in corso, ma sono abbastanza tranquillo su come si svilupperà. La conversazione si sposta poi su terreni più personali e delicati. E ora, parliamo di Ludovica Di Gresi. C'è davvero qualcosa di più di una semplice amicizia tra voi, chiede Cruciani. Qui, il tono di Fedez cambia leggermente. Io e Ludovica ci siamo effettivamente sentiti e abbiamo riso di tutte queste supposizioni dei media. È incredibile quanto le persone possano fantasticare su delle semplici interazioni. Fedez continua, le persone adorano parlare e spesso dimenticano che dietro le notizie ci sono persone reali con emozioni reali. Ludovica è una grande amica e ci siamo trovati a ridere di tutte le storie che vengono create intorno a noi. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Ci siamo solo sentiti, ammette Fedez, lasciando trasparire un sorriso che sembra nascondere qualcosa di più. Un velo di mistero che ci invita a domandare, cosa non ci stanno dicendo? Ora, vi lascio con una domanda. Credete che ci sia sempre una verità nascosta dietro le grandi storie di gossip o a volte le apparenze sono semplicemente ciò che sono? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like se volete continuare a esplorare i misteri del mondo del gossip insieme a noi.